Sì, è un altro che giochi in casa volando, continuato dalla ciocca, sicuramente immagino che stare davanti a quello che è partito prima è una bella soddisfazione, sarà molto dura però, speriamo che sia bello il tempo, le prove, che sia molta gente, ci divertiremo Chi è che temi veramente? Chi è che hai più paura nella vostra classe? Siete in tanti, i primi 4? Bene ragazzi, vi auguro un buon velli, un grande bocca al lupo anche a voi, vi aspetto quando vai in sera, dopo volando, 5, 4, 3, 2, 1, via, sinistra 3, 200, stai a sinistra, per destra 3, per destra 3, 150, stai a sinistra, 150, stai a sinistra, 150, sinistra 4, per destra 3 sporca, per destra 3 sporca, 100, destra 2, subito destra 3, dosso pieno salta, sinistra 5, 200, sinistra 4, stacca, sinistra 4, stacca destra 3, subito torna 3, subito torna 3, sinistra 4, 20, estra 3, sinistra 5, sinistra 4, 2, 15, stacca, sinistra 4, stacca, rispondendo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti